Abbiamo un problema. Il defibrillatore non funziona. Se fosse il defibrillatore guarderei altrove, c'è un'emorragia. Rettale? E vaginale. Ci può essere stata una lesione durante l'operazione? Questa è un'accusa? Mi sembrava una domanda. Una richiesta diretta che solamente uno con delle grave insicurezze può prendere come un'offesa. Ok. Quindi nel rispondere devo decidere fra le uniche due possibilità. No e sì, forse abbiamo fatto qualche casino, ma lo stiamo nascondendo apposta perché siamo incompetenti e anche carogne. La risposta è no. Sono contento di non aver cambiato strada. È una malattia del sangue, una coagulopatia. Non è una diagnosi. È come dire che hai il naso che cola. È vero, ma non dire che hai il naso che cola può farci arrivare addosso tutto il mocio. Si può curare. Può essere comunque una tossina. È stata in contatto con una quantità di... È stata, quindi dovrebbe stare meglio ora che non lo è più. Lo stesso vale per House. Se c'entrasse la Caddy se ne sarebbe andato da tempo. C'è qualcos'altro sotto. Di nuovo. È un approccio molto semplicistico alle questioni di cuore. House è razionale, se ne vanta sempre. Nessuno è razionale sulle emozioni. Per questo sono emozioni. Tu cosa pensi? Io non ho detto niente. Appunta. Tu esprimi sempre un'opinione, soprattutto quando c'entra House e soprattutto quando c'entrano gli uomini e l'amore. Invece non hai aperto bocca. House non può aiutarci. Rispetto la sua privacy per quanto stupida e ti sarei grata se tu rispettassi la mia. Noi dobbiamo curare la malattia. Potrebbe essere cancro, sepsi, trauma, il fegato, febbre... Io comincio a curare i sintomi, mentre tu finisci di elencare le cause possibili. Noi dobbiamo curare i sintomi, pechati... Grazie a tutti